La madre sta male Selena Gomez, la madre sta male, tutta colpa di Justin Bieber Selena Gomez discute con la madre a causa di Justin. Selena Gomez continua a godersi la sua storia d'amore con Justin Bieber, nonostante la sua famiglia non approvi. La madre della cantante non sembra essere ancora pronta ad accogliere di nuovo il fidanzato della figlia dopo che le ha spezzato il cuore più volte in passato. Stando a TMZ, la donna è finita in ospedale a causa di una discussione accesa con la figlia, dopo aver appreso che le cose tra Selena e Justin sono davvero serie questa volta. I due stanno addirittura facendo terapia di coppia. Si tratta un ricovero volontario, a seguito di un lieve mallore. . A farlo sapere è stato il sito liveodliffe.com. La coppia ha attraversato molti alti e bassi, proprio per questo la famiglia della Gomez non incoraggia più questa relazione. . La madre di Bieber invece è molto felice che sia tornato insieme a Selena. . Lei stessa ha affermato di sostenere qualunque sua decisione. . Justin Bieber e Selena Gomez festeggeranno il capodanno a New York. . Tra Justin Bieber e Selena Gomez le cose non sono mai andate così bene come in questo momento. . I due non trascorreranno il Natale insieme, ma hanno grandi progetti per il capodanno. . Una fonte ha rivelato che intendono iniziare il nuovo anno a New York. . Ad ogni modo, i diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia e non hanno svelato nessun dettaglio in merito ai loro progetti per le vacanze di Natale. .